Salve a tutti, per le guide di Isidido2 sono a raccontare come funziona nell'ambiente installabile Regi per me FW40. Allora FW40 è la nuova evoluzione che ha fatto Giuliano Serena, eccezionale, grande Giuliano, che ha inventato questo programma con un sacco di funzioni. Adesso andremo a vederlo. E' portabile, in realtà io l'ho messa nell'ambiente installazione perché prima di funzionare bisogna cliccare qui, prima esecuzione, se no non si ha le voci. Una volta installate le voci ci sono già in questo computer, perché sono installate su Legi per me Union, cliccando esegui ecco che parte il nostro Legi per me. Legi per me è partito e ha una serie di funzioni, come vedete ho addirittura la possibilità di creare mappe concettuali, doppio clic, ecco che parte C-Map portabile in italiano. Ho il lettore PDF, vedete posso fare mappe, chi conosce C-Map conosce l'importanza di questo eccezionale software di mappe che crea mappe concettuali con i loro legami, mi permette di inserire immagini e quant'altro, c'è Inesidi da due ed è spiegato molto bene dal collega Montorsi. Adesso lo chiudo perché non mi interessa mostrare questo. C'è Mind Map per chi vuole fare mappe mentali, un programma per scrivere la matematica, un programma per compensare le M, difficoltà matematiche dei ragazzini discalculici che faticano a fare la scomposizione dei numeri, faticano a trovare il massimo come un divisore, i numeri primi, non riescono a fare le equivalenze perché la loro memoria a tabellare è piuttosto impacciata, ma magari sono bambini che hanno una grande capacità strategica, una grande capacità di risoluzione dei problemi ma che faticano a lavorare con i numeri. C'è una calcolatrice parlante, un programma per le divisioni e per la moltiplicazione, operazioni con le frazioni parlanti, per aiutare i ragazzini a fare le operazioni con le frazioni parlanti. Però io mi voglio soffermare sulla funzione lettura che è quella che nativamente è la più importante, quindi cliccando su questa icona c'è anche un programma per navigare in internet, per fare delle ricerche, ma quello che mi interessa è leggere il testo digitale e quindi vedere come posso compensare le difficoltà di lettura di un ragazzino che ha un testo digitale, ad esempio questo, è un testo di tecnica della media, non so se seconda o terza media, i tessuti. Una volta aperto, io l'ho aperto con il pdf change che è dentro il cd da 2, ma anche dentro il cpermè, qui ho tre bottoni semplici, avvia, blocca, metti in pausa, l'ideoma che voglio usare, dopo leggeremo anche l'inglese, aumenta e cala la velocità e poi lasciamo perdere questo che ci apre tutto un ambiente, ma intanto vediamo come leggere, non basta che io seleziono il testo con questa funzione, la funzione seleziona di pdf change e dico leggi, ecco avete sentito? Questa è la lettura, se la voglio più veloce adesso leggo fino alla virgola, non si legge mai tutto il testo perché non si capirebbe, bisogna cercare di fare una lettura digitale un po' come quella nativa, leggo, capisco e vado avanti, allora per esempio leggo fino a sarte e poi se capisco seleziono il resto finché sto leggendo e vado avanti. Cent'anni fa la confezione degli abiti femminili e maschili era opera di bravi sarti e sarte che facevano gran parte del lavoro. Mi va bene come velocità, no, voglio aumentarla, aumento un po' lino la... Che facevano gran parte del lavoro. Bene, aumento un po' lino la velocità, vedete questo è il più, questo è il meno. Che facevano gran parte del lavoro. Ecco, adesso vediamo se mi ha preso l'aumento di velocità. Cent'anni fa la confezione degli abiti femminili e maschili era opera di bravi sarti e sarte che facevano gran parte del lavoro. Ecco, vedete adesso è troppo, non mi interessa una velocità così, la voglio abbassare. Però posso anche lavorare sul testo, cliccando quel bottone che avete visto adesso, il libro, posso entrare in un ambiente dove il testo, ritorno indietro, seleziono tutto il testo, per esempio il capitolo, ecco, fino a usura, eccolo qui. E io o lo leggo, questa è una funzione di aiuto che può anche dar fastidio, quindi si può anche chiudere. Oppure questo testo, prendo l'ambiente che ho mostrato, può essere modificato, elaborato, utilizzato per fare le mappe, preparo una mappa, vedete anche qui, con mind map o cosimap, correttore ortografico, posso introdurre qualcosa. Ma se faccio fatica a leggere, lo voglio usare questo ambiente come un ambiente di rinforzo, posso andare nella visualizza e aumentare il carattere. Vedete, posso stabilire di vederlo maiuscolo, maiuscoletto, bianco e nero, insomma, l'interlinea la posso aumentare per facilitarmi la lettura, gli spazi, allargarli e quindi portarmi il testo alla mia più migliore condizione per poter essere letto. E poi posso leggerlo, sempre con la funzione leggi. Ecco, come avete visto, la lettura questa volta è a scansione. Io sento, per esempio voglio partire dai clienti perché voglio rileggere la frase, sento e vedo la frase che consegnavano la stoffa dopo averla scelta accuratamente, affinché durasse a lungo, e sceglievano il modello sulle pagine. Ecco, l'ho fermato, posso andare avanti. Adesso, faccio vedere altre cose. L'audio, posso aumentare e calare la velocità, leggere le parole, leggere le frasi, addirittura e farà trasformare in mp3, cioè in file audio, tutto questo testo che mi permetterà di ascoltarlo, eccolo qua, quando mi piace a me, quando voglio io per strada, con gli amici, dove voglio. Ecco, è partita un'altra funzione perché ho fatto clic in un altro posto. Ecco, come dicevo, ho fatto clic nel posto un pochino più in là perché questo trasforma tutto questo testo in mp3 e questo permette di registrare scusate, di trasferire la mia voce in testo parlato da poter inserire perché questo testo che io ho importato per essere letto come vedete può essere arricchito delle mie considerazioni le mie considerazioni e viene letto e inglobato nel testo e posso farne quello che voglio quindi se clicco qua, trasformo il mio testo in mp3 e lo chiamo i tessuti e lo posso riascoltare sul smartphone, sul pc, dove voglio io adesso io sul monitor avrò un file che si chiama i tessuti e se non è sul monitor, chissà dove l'ho messo ma c'è di sicuro forse è andato a finire dentro documenti eccolo qua, i tessuti se io clicco, lo vedete, ascolto i tessuti registra ecco, chiudo perché non è interessante riascoltarselo allora io ho trasformato questo testo in audio e con questa funzione invece posso parlare io clicco il programma di google che decodifica che digitalizza la mia voce eccolo qua, devo cercare l'italiano perché sennò non si va bene e quando dico registra, devo usare appunto chrome perché è una funzione di chrome allora io adesso parlo e come vedete posso tranquillamente vedere scritto quello che mi interessa per evitare di talizzare con le mani e fare un sacco di errori ci pensa il nostro programma a scrivere posso poi dopo copiare e incollare questo testo all'interno di qualsiasi struttura digitale file di testo, file, addirittura questo file che sto leggendo e adesso chiudo il microfono copio apro il mio testo dopo considerazioni vado a capo ctrl v e ci ho messo il testo che mi mancava come vedete ecco qua, evitare di digitalizzare con le mani eccetera quindi io ho uno strumento per scrivere, per modificare, per elaborare poi posso anche entrare dentro questo testo con le funzioni di modifica vedete cliccando modifica quindi posso evidenziare, posso operare delle inserzioni di immagini posso operare come un elaboratore testi, colorare, cambiare colore e così via adesso questo me l'ha tutto evidenziato adesso lo tocco, però io se leggo evidenzio le cose che mi interessano poi dopo posso fare una bella mappettina concettuale dopo che ho evidenziato le parole chiave è una bella funzione adesso faccio vedere la funzione revisione questa è la funzione corregge gli errori se io ho scritto facendo degli errori ho qui il correttore ortografico che mi sostituisce la parola non pertinente e come vedete mi chiede quanti suggerimenti vuoi eccetera ho la funzione riassumi che è una grandissima bella funzione perché io leggo vedete cosa fa cent'anni fa il vestito che dura una vita cent'anni fa la confezione degli abiti femminili quello lì è una funzione che permette di selezionare 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 ah non c'era selezionato niente allora non ho letto niente e poi adesso li sto selezionando a casaccio perché non riesco a fare questo video e usare anche bene la testa su questo lavoro poi dico leggi selezionato vedete però è interessante perché io gli dico conserva la selezione cioè io lo leggo seleziono le cose più importanti e poi dico guarda cancella tutto quello le parti selezionate che sono la sintesi l'ipersintesi di questo programma vengono mantenute e tutto il testo viene buttato via viene buttato via e quindi dopo io farò un lavoro di collegamento revisione aggiustamento però ho sintetizzato molto bene questo oggetto voi capite benissimo che cosa significa perché se dopo io che ho fatto una sintesi vado nell'ambiente ascolto che era questo posso trasformare in mp3 la mia sintesi e tutto il mio libro il mio testo il mio capitolo farlo diventare una sintesi molto ridotta ovviamente posso anche trasferire in testo una sintesi fatta da me con il microfono quindi questo strumento che io spiego solo per le parti che riguardano la lettura la sintesi la modifica del testo le facilitazioni compensative che riguardano il testo è veramente potente ed ha una marcia in più a chi sta studiando perché può evidenziare sintetizzare togliere riassumere trasformare in mp3 e addirittura fare una sua sintesi da aggiungere qui con le sue parole e verificare come se va bene o se va male poi le funzioni se va bene o se va male la sintesi autovalutandola le funzioni sono anche altre come vedete c'è apri il libro digitale fai degli appunti addirittura dizionario delle lingue straniere calcolatrice insomma ce ne sono altre ma quello che conta è imparare a usare questo ambiente che è un ambiente veramente compensativo le voci come dicevo sono gratuite e sono gratuite sono pagate con la licenza del vostro computer quindi non ci sono non sono voci da comprare e non si possono comprare altre voci se non quelle che ci sono con microsoft perché le sapi questo non è un programma che fa andare le sapi per fare andare le voci sapi quelle acquistate quindi anche il greco bisogna installare l'altro l'altro leggi per me che è appunto quello leggi per me standard con leggi per me standard si devono installare le voci le voci sapi e a pagamento bene per quello che riguarda leggi per me fbv40 non è naturalmente tutto ma è abbastanza per le guide di Isidi da 2 Francesco Fusilo vi ringrazio per l'attenzione